Il MES è pronto per il Cremona Circuit. I trofei motestati sono pronti a tornare al Cremona Circuit, appuntamento sabato 18 e domenica 19 maggio. Dopo l'esordio incredibile in quel di Varano dei Melegari, che ha decretato i primi vincitori del MES 2024, è già tempo di vivere un altro memorabile weekend di gara. E non poteva esserci il miglior teatro che il Cremona Circuit, che quest'anno, oltre ai trofei MES, ospiterà anche i campioni della Superbike. Come di consueto, saranno molte le categorie al via, dalle 300, passando per l'agnonate già incredibilmente appassionante Sportbike, per arrivare poi alle maxi moto che competeranno nella 600 e 1000 Open e nelle race ATAC 600 e 1000, le classi ideali per approcciarsi al mondo delle competizioni. Molte categorie e moltissimi piloti. Oltre ai riders del MES, vedremo infatti in azione gli alfieri del CRW, della RBF Cup e del National Trophy 600. E ad impreziosire ancora di più le gridi di partenza, un foltissimo numero di Y-Card eccezione. Non mancate dunque, vi aspettiamo sugli spalti e in pista sabato 18 e domenica 19 maggio su Cremona Circuit, un spettacolo è assicurato.